Musica 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 Ciao Oggi faremo la reaction delle Blackpink con Do 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 Vai Ok Oh Oh Già partiamo bene Oh 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 No No Oh 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 spiegelo Oh 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 Ano lì tutto Siamo tornati con il voto, vero? Ho pensato un anno, un anno, è fatto la pena Oh mio Dio, i priviti Ma non mi piace troppo, c'è tutto Perché la canzone non è che ho sentito tantissimo Ma il ritornello è proprio C'è il fantastico di ritornello I vestiti questa volta erano toccos C'è, fantastico Vabbè, sempre presente Li vota bene, sta bene Quindi, oh mio Dio Bravo il BLACKPINK Questo sì, fantastico Adesso mancano solo le live, le dance La reaction si conclude qui Continuate a seguirci, a supportarci Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti Seguiteci su Facebook Instagram Twitter C'è altro? No! No, ovviamente Eee, a la prossima reaction! Ciao! Ciao!